un saluto amiche e amici di appunti creativi bentornati sul canale youtube in questo articolo il piacere di condividere con voi un rimedio davvero semplice per donare nuova lucentezza all'argento ossidato mi mostrerò come applicare il metodo su un oggetto che mi ritrovo in casa ma il suggerimento è validissimo per lucidare l'argenteria o per trattare quei bijoux d'argento che non indossate da un po e mostrano i segni del tempo tutto ciò che serve per riportare alla luce l'argento ossidato è dentifricio si rivela perfetto il tubetto esausto ovatta è un guanto in lattice con l'ovatta stendete uno strato di dentifricio sull'oggetto da trattare quando avete completato l'operazione strofinate con dell'ovatta pulita o con il panno cattura polvere strofinate fino a raggiungere il grado di lucidatura desiderato e voilà sorprendente no vi è piaciuto questo video allora un like davvero molto molto gradito iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornati sulle video novità di appunti creativi passatemi a trovare su appunticreativi.it e seguitemi anche sui social un saluto e alla prossima